Grazie mille. Cari amici, vengo della Spagna, rappresento Citizen Go, la piattaforma che difende la vita e la famiglia in tutto il mondo. Grazie per firmare la nostra petizione. È meraviglioso essere in tanti nella bella Verona, la città dell'amore, per celebrare la famiglia, il luogo naturale dell'amore tra uomo e donna, ed educazione e la cura dei bambini. Nonostante tutte le difficoltà e gli attacchi di questi giorni, siamo chi a fare festa per la famiglia. L'amore vince sempre sull'odio. Grazie.